Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video Ecco voi il vostro Llegati 97 Oggi è il 27 giugno, sono circa le 19.15 minuti E sono appena arrivato a casa dal lavoro Come vi avevo promesso, sarei riandato al mare E stasera, o meglio stanotte, è giunto il momento Adesso qua sotto, come potrete vedere, ci sono le mie valigie Devo ancora prepararle del tutto Adesso devo cenare, poi mi farò una doccia, mi preparerò e poi partiamo Nello zaino che avete visto prima c'è la mia attrezzatura Tra cui anche un nuovo gadget È un gimbal, o meglio uno stabilizzatore per videocamere Visto che nell'ultimo vlog al mare ho visto che molte immagini erano molto mosse Ho pensato che con questo strumento si possa risolvere una serie di problematiche Questa volta andrò al mare con mio padre Così avrete l'onore di conoscere anche lui in tutta la sua simpatia Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi Di attivare la campanella delle notifiche Di lasciare un like, un commento qua sotto E io vi lascio al video Buona visione Ragazzi sono le 2.26 del mattino E io sono in macchina con mio padre che sta guidando Ciao Così lo conoscete bene E siamo in partenza Anzi siamo già in viaggio da 5 minuti Hai qualcosa da dire a tua discolpa? Non ho niente da dire, buon viaggio a tutti Noi andiamo e voi no, ciao Sono passate circa 3 ore dall'ultima clip Intanto è diventato chiaro E siamo dopo Bologna Adesso andiamo a bere un caffè E andiamo a far pipì Siamo arrivati a destinazione E adesso Patatine Findus Scendiamo dalla macchina L'hotel è questo qua Ma già la maschettina di Aldo Pronti? Siamo La prima entrata del 2021 Nel fantastico hotel Abbiamo fatto colazione Pagato io Ciao Pagato io Pagato io Grazie a tutti. Cos'è che abbiamo recuperato? Abbiamo recuperato la spiaggia, un'ombra all'una e due lettini. Adesso andiamo a prendere posto, possesso dalla nostra spiaggia. Esatto. Tani era di Cesenatico e il comune in onore del suo campione ha eretto questo monumento. Entriamo nella spiaggia. Ciao. Abbiamo recuperato il numero di ombrellone e adesso mio padre vi spiegherà. Siamo al bagno Marconi di Cesenatico al posto 108B. Andiamo a cercare a guardare l'ombrellone? Andiamo. 168, 156, 144, non si legge, 120, 108. Ragazzi stiamo aspettando che ci liberino la camera e vi ricordate nello scorso video il grattacielo di Cesenatico? E' proprio lui, guardate. E di fronte ci troviamo davanti al Grand Hotel. Stasera stiamo andando al Porto Canales di Cesenatico. Sono sempre con mio padre e vi mostrerò qualcosa. Non so ancora di preciso che cosa, però qualcosa vi mostrerò. Vuole dire qualcosa lei? Ci stiamo avvicinando al punto dove dobbiamo andare. Il Porto Canale di Leonardo da Vinci. Ciao. 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 Grazie a tutti 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 Con questo è tutto Io concludo questo video E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao